Pareggio che vi sta un pochettino stretto, 29 a 29 a Carpi, ma sciupando un vantaggio di 9 reti al termine del primo tempo. Che cosa è successo? C'è stata una sorta di blackout perché avevamo un ottimo vantaggio, abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi fino ad adesso con 9 reti di vantaggio. Poi gli altri sono stati bravi a tornare in partita e poi la partita è stata decisa da momenti positivi per loro. Sicuramente però la reazione che serviva dopo la brutta prestazione di Fasano al netto del blackout del secondo tempo è arrivata. Sì, sicuramente siamo riusciti a giocare meglio in attacco, a difendere anche molto meglio perché gli avversari sulla carta erano inferiori rispetto a Fasano che sappiamo che è una delle massime potenze di questo campionato e c'è stata una sorta di rinascita da parte nostra. Da proseguire adesso in un'altra trasferta, la seconda consecutiva, sul campo del Siracusa. Facendo un passo indietro tra l'altro era stato il vostro esordio in Serie A Gold, quindi una partita giocata anche con tanta emozione. Adesso andate in casa loro, che partita vi aspettate? Ci aspettiamo una partita, speriamo, migliore rispetto a quella dell'andata, in un campo molto difficile con un'avversaria tosta che sa giocare, sa mettere in difficoltà le big, si è visto contro Volzano. E noi cercheremo di giocare al meglio e sfruttare tutte le occasioni possibili per fare il risultato in Sicilia. Tre pareggi è una vittoria, questo è il bilancio numerico del vostro girone di andata, però ti chiedo anche un bilancio da un punto di vista sia di esperienza, per quanto vi riguarda, com'è cresciuta, e anche di gioco. Come siete migliorati, secondo te? Sicuramente, a partita dalla prima partita, arrivare fino adesso, siamo migliorati, continuiamo a crescere come gruppo, come intesa, l'esperienza è fondamentale perché stiamo costruendo pian piano il nostro bagaglio tecnico e tattico, e incontrare squadre di questo calibro, squadre molto forti, esperte, ci fa più che piacere perché ci fa provare le cose che facciamo in allenamento e ci mette nella condizione di essere più concentrati.